Andrea Politi Io sono Andrea Politi, ho 32 anni e sono il segretario del circolo centro storico del Partito Democratico, quindi a Belle Arti. In questi anni mi sono occupato, sono stato consigliere di quartiere di San Vitale, mi sono occupato di sport, commercio e attività produttiva. Io sono molto contento sostanzialmente che la presentazione della lista avvenga in un parco cittadino e in un luogo in qualche modo deputato allo sport. Stiamo su una pista di pattinaggio, il lunetto a Gamberini sostanzialmente è uno degli impianti sportivi, dei complessi sportivi più importanti di Bologna. Io sono dell'idea che lo sport crei il cittadino a 360 gradi, dal rispetto delle regole, della tutela della salute e sia uno strumento di integrazione, il maggiore strumento di integrazione possibile che dia una visione alla città, quindi aiuti a favorire il processo di vivibilità che più volte è ripetuto nel nostro programma elettorale. Il quartiere Santo Stefano è un quartiere composito, va dai colli alla zona universitaria con tutte le sue contraddizioni e tutte le sue complessità. Molte cose hanno funzionato, molte altre non hanno funzionato negli ultimi cinque anni e il nostro impegno è quello di valorizzare quello che di buono è stato fatto in questi cinque anni e correggere il tiro in qualche modo su quelle che sono state le criticità. Ecco, fermo restando le competenze che poi il quartiere ha. Non è sicuramente l'amministrazione comunale, però qui abbiamo anche altri candidati in consiglio comunale di riferimento del quartiere Santo Stefano e penso che l'obiettivo di una forza che si propone di governare la città sia lavorare in singhiosi tra le varie realtà dell'amministrazione pubblica, quindi dal quartiere al comune all'amministrazione comunale.